Il countdown è iniziato all'ora X lunedì alle 15 con l'inizio della sessione, udienze della sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del collegio di garanzia presso il CONI. L'udienza, si legge in una nota ufficiale, è preordinata ad esaminare e decidere due ricorsi, quelli presentati dal Teramo e dal Campobasso, club esclusi dal campionato di Lega Pro perché sprovvisti della licenza nazionale 2022-2023. La sensazione è che la situazione si aggrigia e che ci siano i margini affinché il collegio di garanzia ribalti quanto deciso dalla Covisoc e ratificato dal Consiglio federale. La partita si gioca sull'interpretazione di alcune norme relative alla posizione fiscale delle società e la loro regolarizzazione nei termini richiesti dal sistema di licenze nazionali. Per i legali del club ci sono margini per riammettere il rosso-blu nel torneo professionistico e non a caso il Campobasso nelle scorse ore ha annunciato l'inizio della preparazione precampionato, il 19 le visite mediche, il 20 i primi allenamenti a Vinchiaturo dal 24 luglio al 3 agosto la fase più dura e intensa a Rivisondoli. Mentre sul fronte mercato si registrano novità ma solo in uscita. Michele Emmausso è stato accostato al Potenza, forte delle sei reti, messi a segno in un campionato iniziato con qualche problema. Il fantasista napoletano ora spera di accasarsi in un club che possa puntare a qualcosa di importante nel prossimo torneo di Lega Pro.